La repressione dei movimenti, a violenza della polizia, i leghisti, i tronfi e ignoranti, a gente mi zanavia, fitti alle stelle, licenziamenti, le guerre dei potenti, l'arroganza dei dirigenti, l'ingiustizia, l'ipocrisia. Sai come le risolve ste faccende qua il PD? Partenza venerdì, sera rientro lunedì. Yes Weekend, Yes Weekend, Yes Weekend.